Smontare e rimontare l'asta a gas è un'operazione molto semplice e veloce. Tuttavia, occorre prestare attenzione ad alcune avvertenze in modo da svolgere l'operazione in tutta sicurezza. In presenza di una sola asta a gas all'interno del mobile, assicurarsi che durante lo smontaggio l'anta non cada. In presenza di due aste a gas invece, si consiglia di smontarle una alla volta. Non rimuovere gli attacchi fissati con le viti al fianco e all'anta del mobile. Smontare solo il pistoncino. Per un corretto funzionamento dell'anta, si consiglia di sostituire tutte le aste a gas presenti nel mobile. Vediamo ora i passaggi per rimuovere la vecchia asta a gas. Tirare l'asta a gas afferrandola dall'attacco. Ruotare l'asta verso l'esterno del mobile. Sfilare l'asta dal supporto anta. Vediamo ora i passaggi per montare la nuova asta a gas. Inserire l'asta nell'apertura del supporto anta. Ruotare l'asta verso l'interno del mobile. Inserire l'asta nel supporto fianco, praticando una leggera pressione fino a sentire un click. Verificare che l'anta funzioni correttamente. Non si Veronica è ? Reg 94. Gi 10. 3 5 6 6 10 15 11 Grazie a tutti.